Una super area covid perché con questo virus dovremo continuare purtroppo ancora a doverci fare i conti e poi ancora un ospedale incentrato soprattutto sul ruolo dei pazienti e degli operatori, sugli investimenti riguardo la connettività e infine considerata prioritaria la formazione del personale. Il San Donato di Arezzo vedrà dunque il suo potenziamento dall'erogazione di procedure complesse e interdisciplinari per i cosiddetti pazienti acuti. Così dunque parte la rivoluzione dell'ospedale San Donato di Arezzo annunciata dal direttore d'Urso alla presenza del presidente della regione toscana Enrico Rossi. Allora il San Donato avrà un'area covid potenziata, un postiletto di subintensiva, di degenza e di terapia intensiva e un'area di pronto soccorso più ampia. Tutto questo per garantire la protezione covid. Ci sono degli interventi su antisismica, antincendio, condizionamento ed efficientamento e percorsi su tutto il resto dell'ospedale. È lo stesso Rossi ad annunciare una vera e propria rivoluzione sul fronte delle cure intermedie. Sono qualcosa come 1600-1700 posti letto di cure intermedie. Su tutta la Toscana, in quarta parte naturalmente anche qui a Arezzo, le cure intermedie sono una cosa che non è né ospedale né territorio. Provo a spiegarla dal punto di vista del cittadino. Di solito i cittadini non si lamentano troppo del funzionamento dell'ospedale, di cui riconoscono competenza e anche umanità. Il problema è che spesso ci sono dimissioni che vengono giudicate dai cittadini precoci, ma dimissioni giuste perché l'ospedale ha finito il suo lavoro. Ma il ritorno sul territorio spesso mostra delle difficoltà dal punto di vista dell'assistenza e allora la cura intermedia a metà via tra l'ospedale e il territorio in questo senso diventa importantissima. E a margine della conferenza stampa di presentazione di questa importante riorganizzazione dei nosocomi, c'è stata l'occasione di parlare anche dei cosiddetti cluster. Quando le famiglie sono sovraffollate o quando ci sono appartamenti comunque sovraffollati, il contagio si diffonde piuttosto rapidamente. Anche questo è inutile che lo spieghi. Dà il caso che molte persone che abitano in situazioni di sovraffollamento siano immigrati. Anche questo risulta da dati evidenti. Nell'ultima settimana su 19 nuovi casi, 17 sono immigrati. Per lo più immigrati guarda caso di nuovo da quelle aree del mondo che hanno una presenza di contagi molto alta. Le cose che possiamo fare sono da un lato quando c'è un sovraffollamento dare al sindaco la possibilità di intervenire. Anche qui gli altri parlano, inseguono teorie, basta leggere quello che si può fare. Si può prescrivere quando c'è un sovraffollamento di andarsi a curare una struttura adeguata. La struttura adeguata è l'albergo sanitario. Io credo meno alla possibilità che si possa modificare le leggi e fare come leggo il TSO. È una modifica legislativa complessa quella del TSO. Però il sindaco può emettere un'ordinanza nella quale si dice, siccome c'è sovraffollamento, siccome ci sono persone malate, c'è rischio di contagio, la ASLE prepara, il Dipartimento ASLE prepara le motivazioni e si prescrive, la parola giusta è prescrivere, di andare in un albergo sanitario. Se non vai nell'albergo sanitario la multa va da 1.000 a 5.000 euro. Allora, per mandare le persone che sono in condizioni familiari non sostenibili di convivenza, assolutamente sì. Quello che mi manca è lo strumento, perché fare una multa da 1.000 a 5.000 euro a una persona che non ha nulla da perdere, non me la perdere mai, non rende possibile l'effettuazione del ricovero come io preferirei che fosse coatto.